Sul tasto destro del mouse foglio per provocare il menu a discesa e attivare il comando di stampa. Nella finestra di dialogo stampa selezionare il nome del foglio della stampante, plotter dalla lista, il numero di copie, impostare la scala, dimensioni del foglio. E comprendono un'anteprima per una valutazione preliminare dell'immagine futura e stampare da questa finestra. Nella finestra di dialogo stampa foglio d'accordo con le impostazioni e fare clic sul pulsante ok per visualizzare l'immagine sul supporto di stampa.